In casa New Basket Agropoli ci si impegna con continuità gli allenamenti giornalieri fissati alle ore 16 e 30 perché la semifinale dei play-off di domenica prossima rispetterà lo stesso orario e quindi si cerca di adattarsi alle temperature per ottimizzare la prestazione. Nel frattempo gli sponsor sono entusiasti della prestazione della squadra agropolese e presenziano alle gare per sostenere maggiormente la società presieduta da Angelo Farese. Durante l'ultima partita abbiamo incontrato la dottoressa Rosetta Di Buono dell'Istituto Polidiagnostico Santa Chiara di Agropoli che ha dato un supporto importante e strategico nell'organizzazione sanitaria e non solo. La mia struttura è stata sempre vicina allo sport e soprattutto perché ci piace, e a me in particolare piace vedere i ragazzi che fanno sport, che si dedicano a fare gruppo, a fare amicizia, ad avere quei valori che sono importanti. Quindi noi con quello che abbiamo potuto fare abbiamo seguito un po' i ragazzi dal punto di vista del Covid, cioè abbiamo fatto i tamponi prima delle partite, in modo tale che loro potessero gareggiare in sicurezza. E c'è da dire che ultimamente noi stiamo notando che col fatto delle vaccinazioni, col fatto che la pandemia sta scemando. Per lo meno ad Agropoli nell'ultimo mese abbiamo trovato pochissimi positivi, quasi nessuno nella nostra zona, per lo meno per quello che facciamo noi. Naturalmente noi non facciamo il lavoro grande che stanno facendo all'ospedale, che hanno numeri molto più grandi e prendono un poco tutto il cilento, però noi che facciamo soprattutto la zona di Agropoli e qualche comune limitrovo ci siamo tranquillizzati ultimamente. Ecco, io ne voglio pure approfittare, dottoressa, di pubblicizzare ancora di più la sua struttura, perché davvero è all'avanguardia, non solo si mette a disposizione per gli sportivi agropolesi, ma anche per tanti cittadini non solo cilentani. Allora, quali sono i servizi che offrite? La mia struttura offre le analisi cliniche ad ampio spettro, facciamo analisi per quanto riguarda le analisi normali di screening, facciamo le analisi di genetica, insomma, copriamo tutto il prontuario che adesso ci sta a livello nazionale, insomma, quindi seguiamo pazienti che vengono seguiti a Milano ai centri oncologici, pazienti che vengono ematologici, che vengono seguiti a Pagani, a Vallo, facciamo esami più particolari per vedere le mutazioni genetiche, abbiamo preso delle attrezzature un po' più sofisticate e in questo momento diciamo che mi sento soddisfatto. Di come stiamo procedendo, di come stiamo portando avanti, certo il nostro lavoro, il mio lavoro è tale che in ogni momento ci dobbiamo aggiornare, quindi dobbiamo riuscire a fornire la risposta all'utenza. Infatti, dottoressa, mi permetta questa piccola parentesi che possiamo fare qui in occasione del basket, visto che la sto intervistando, di ricordare anche la sua forse più che trentennale esperienza, insomma, lei era ragazzina, poi ha cominciato... Quarantennale! Vedete, cioè, 40 anni di esperienza, di storia, è partita da zero, dal piccolo, dal basso, diciamo così, e oggi, insomma, è una ricchezza per il territorio. No, in effetti la mia storia è che sono partita da... effettivamente, e poi non le nascondo che per una donna è più difficile, per una donna è più difficile, però comunque faccio parte della Federlab. Stiamo cercando di fare un poliambulatorio, insomma, stiamo cercando di fornire i servizi il più possibile. Dobbiamo vedere come si va avanti. Certo che la sanità, adesso, con il recovery fund, potremmo attingere, può essere che ci danno la possibilità di poter fare qualcosa di più, di poter ampliare i servizi, di poter dare una risposta a coloro che ce la chiedono. Grazie.